Per il fatto che desideriamo incominciare con un piccolo momento di preghiera, per far sì che in mezzo a noi ci sia la presenza del Signore Gesù e quindi anche quanto ascolteremo, non soltanto sia l'espressione della preparazione di Don Giacomo Canovio, ma sia anche effettivamente un messaggio del Signore che ci tocca il cuore. Nel nome del Padre e del Figlio dello Spirito Santo, Padre nostro, nei cieli sia santificato il tuo nome, che al tuo regno sia fatta la tua volontà. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma libera. Certamente sapete che il tema di questi approfondimenti teologici quest'anno è la profezia. E questa sera affronteremo il tema inattualità della profezia, punto interrogativo. Cioè in che senso la profezia non è attuale, è inattuale. E proprio per questo ci introduciamo, ascoltando un brano della parola di Dio, tolto proprio da un profeta, il profeta Isaia. Nell'anno in cui morì il re o zia, io vedi il Signore seduto su un trono alto ed elevato. I lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno aveva sei ali. Con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. Proclamavano l'uno all'altro dicendo, Santo, Santo, Santo il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Vibravano gli stipidi delle porte a risuonare di quella voce, mentre il tempio si riempiva di fumo. E dissi, Oimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito, eppure i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me. Teneva in mano un carbone ardente, che aveva preso con le molle dall'altare. Egli mi toccò la bocca e disse, Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua colpa, e il tuo peccato è spiato. Poi udì la voce del Signore che diceva, Chi manderò e chi andrà per noi? E io risposi, Eccomi, manda a me. E gli disse, Va, e riferisci a questo popolo. Ecco, ora possiamo sederci. Certamente conoscete già il relatore di questa sera, il professor Don Giacomo Canobbio, e anche perché è stato qui anche altri anni. C'è un particolare però che vi devo dire, perché voi conoscete tutta la sua bravura, sapete che è docente di teologia, presso il nostro seminario, ma anche a Milano, anche a Padova, è stato anche presidente dell'Associazione di Teologi Italiani. Ma c'è un particolare inedito, è stato un mio professore. e uno dirà, come è più giovane di te? Perché voi lo guardate da qui in alto, e da qui in alto sembra molto più giovane, però se lo guardiamo in giù, ecco, invece è meno giovane. Comunque sono contento che sia qui questa sera, per il fatto che, oltre che professore, è anche un mio carissimo amico, quindi sono contento che Don Giovanni lo abbia invitato. Lo ringrazio e lo ascoltiamo. Buonasera. Quando noi vogliamo capire che cosa una persona faccia, che professione svolga, noi dobbiamo prestare attenzione al nome che denota la sua professione. Per esempio, un dottore commercialista, che cosa fa? Aiuta le persone a non pagare le tasse. Un ragioniere, che cosa fa? Aiuta le persone a fare i conti. Un profeta, che cosa fa? Se noi vogliamo capire quale è la funzione del profeta, dobbiamo prestare attenzione al significato che questa parola ha. E' una parola che è composta da due parole, pro, che vuol dire in nome di, al posto di, e un verbo, il verbo femì, greco, che vuol dire parlare. Allora, profeta è colui che parla in nome di un altro. Ma chi è quest'altro in nome del quale il profeta parla? ovviamente è Dio. Ma è il profeta che decide di fare il profeta? No. Sarebbe come dire che io mi presento in nome di qualcuno senza che quel qualcuno sappia che io sto parlando in nome suo. per poter parlare in nome di qualcuno io devo essere incaricato da qualcuno. Il profeta è tale perché Dio lo chiama a svolgere questa funzione e gli affida un incarico. Il testo di Isaia che ci è stato appena letto descrive precisamente questa dinamica. Avete ascoltato che Dio si presenta in tutta la sua maestà. Gli angeli i cherubini che si presentano che cosa cantano? Santo 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 quello che noi usiamo normalmente nella celebrazione eucaristica. E cosa vuol dire santo? Colui che è diverso da tutti gli altri che non è contaminato con le fragilità e le miserie degli altri e di fronte alla santità di Dio che cosa può nascere dentro la persona umana? Una sensazione di timore come ci capita quando ci troviamo di fronte a una persona famosa autorevole noi abbiamo soggezione e dentro la parola soggezione che cosa si vuole indicare? Una distanza che percepiamo tra quella persona che è particolarmente autorevole è noi stessi noi avvertiamo la nostra piccolezza di fronte alla grandezza e sempre nel racconto che ci è stato letto che cosa succede? Che quest'uomo Isaia dichiara la sua inadeguatezza io sono un uomo dalle labbra impure e appartengo a un popolo dalle labbra impure che è quanto dire io sono connotato dal peccato e come posso stare di fronte a Dio ma che cosa succede? Ovviamente si tratta di rappresentazione drammatica di una relazione che si percepisce con Dio un angelo prende una brace e va a toccare le labbra di Isaia e gli dice adesso le tue labbra sono purificate e allora si presenta Dio stesso che lascia intravedere una necessità chi manderò e chi andrà per me e Isaia che cosa dichiara eccomi manda me ma notate bene quel eccomi manda me può stare soltanto dopo che quest'uomo ha ricevuto la purificazione mediante le braccia prima non poteva farlo questo lascia intendere che si può svolgere la professione da parte ricevuta da parte di Dio solo quando si è cambiato la condizione della propria esistenza quando cioè si è stati purificati e allora Isaia entra nell'orizzonte della condizione di Dio non è nativa la sua condizione di persona pura ma è determinata dall'azione proveniente da Dio e quindi il profeta colui che come abbiamo ascoltato dovrà andare a dire al popolo alcune parole il profeta si distanzia rispetto alla condizione del popolo stesso è entrato nell'orizzonte di esistenza di Dio tirato fuori dalla condizione caratteristica del popolo e svolgerà una funzione nei confronti di questo popolo che dovrà cambiare il suo stile di esistenza il profeta diventa allora un uomo che svolge funzione critica nei confronti del modo comune di pensare e di agire in forza di che cosa in forza di ciò che Dio ha fatto di lui e dovrà dire delle parole che non sono le sue parole ma sono le parole che Dio gli suggerisce non è un caso che quando noi leggiamo i testi dei profeti troviamo abitualmente l'espressione mi fu rivolta la parola del Signore non è la mia parola ma è la parola del Signore oppure oracolo del Signore Dio e dire oracolo vuol dire parola che esce dalla bocca di Dio e a o l'aspresso vissi a Si arriva a dire da parte di Dio voi non dovrete andare dagli indovini per sapere come la vostra vita debba svolgersi. Voi dovrete fidarvi di un profeta come me che io susciterò al vostro interno. Io vi prometto che susciterò un profeta come me. Ecco, Mosè è il paradigma del profeta e quando si vuol descrivere il tipo di rapporto che Mosè viveva con Dio si usa l'immagine Mosè parlava con Dio bocca a bocca. Ovviamente si tratta di un'immagine se noi potessimo pensare che possiamo parlare con l'altro mentre abbiamo la nostra bocca sulla bocca dell'altro faremmo una cosa paradossale o diremmo una cosa paradossale non è possibile questo. Per poter parlare bisogna avere la bocca libera ma l'immagine a che cosa serve? Serve a dire che tra la bocca di Dio e la bocca di Mosè non c'è più distanza e quindi c'è un riversare la parola che esce dalla bocca di Dio direttamente nella bocca di Mosè in modo tale che non si perda nulla. Questa immagine trova un eco quando si parla per esempio del profeta lo ricordate è quel ragazzo che Anna ha ricevuto in dono da Dio e lei lo rioffre a Dio lasciandolo al Tempio e Samuele mentre è presso il sacerdote Eli sente la chiamata di Dio e non lasciò cadere neanche una delle parole di Dio anche qui è un'immagine non la lascia cadere se tra la bocca di Dio e quella del profeta ci fosse distanza la parola potrebbe cadere nel mezzo e invece no la parola passa direttamente dalla bocca di Dio alla bocca del profeta perché solo in questo modo il profeta è sicuro di poter dire non più la sua parola ma la parola di Dio il profeta ode ascolta accoglie la parola di Dio e la trasferisce al popolo ma è ovvio che essendo la parola di Dio è una parola che suona diversa rispetto alle parole che normalmente le persone utilizzano è una parola che porta dentro di sé una forza una potenza particolare finalizzata a che cosa a cambiare la situazione del popolo è una parola critica e dire critica vuol dire una parola che in alcune circostanze rimprovera perché la condotta del popolo non corrisponde alla volontà di Dio e in altre circostanze quando il popolo è deluso senza fiducia quella parola ha lo scopo di ridestare fiducia e speranza nei momenti di abbattimento la parola risolleva in forza di questa parola la vita del profeta è tutta rappresentanza del modo di essere di Dio quindi non più solo la parola portata il profeta per renderci non è un mp3 che registra e trasmette il profeta è colui che da quella parola è completamente trasformato e proprio per questo vedendo la sua vita si può vedere quale sia l'agire di Dio nei confronti del popolo è interessante a questo riguardo vedere come la vita di Geremia la vita di Osea siano nel loro manifestarsi in quello che le persone vedono rappresentazione del comportamento di Dio nei confronti del popolo prendo come punto di riferimento in particolare Osea per poterlo capire bisogna tenere presente che nella descrizione del rapporto tra Dio e il popolo si usa frequentemente nella letteratura profetica l'immagine dello sposalizio dove lo sposo andava a scegliersi la sposa e poi diventava il supporto della sposa non è un caso per esempio che la vita delle vedove era l'espressione della fragilità umana per eccellenza se non hai più il tuo sposo tu sei esposta alla morte e per questo nasceva tutta una legislazione secondo la quale bisognava avere una cura particolare delle vedove dentro questa modalità di comprensione del rapporto tra Dio e il popolo il profeta Osea che cosa deve fare riceve da Dio l'ordine di andare a sposare una prostituta e poi Osea impiegherà buona parte delle sue energie per rincorrere la prostituta perché questa continuerà ad andare dietro ai suoi amanti si tratta di una metafora per dire che cosa si abbandona Dio lo sposo che ti ha scelto per poter rincorrere continuamente gli amanti cioè gli idoli e andare dietro agli amanti che cosa vuol dire andare a rincorrere coloro che immagini ti possano dare vita e il profeta Osea diventa così in questo modo l'immagine di quello che Dio fa per rincorrere il popolo per legarlo nuovamente a sé e c'è una bellissima immagine nel profeta Osea la porterò nel deserto e la parlerò al suo cuore quindi voglio farla innamorare nuovamente e dove la porto là dove l'ho trovata il deserto è il luogo nel quale nell'attraversamento dall'Egitto alla terra promessa il popolo ha potuto conoscere Dio la porterò nel deserto e allora si accorgerà che sono io che le do vita è un'immagine che si trova anche nel capitolo 16 del profeta Ezechiele dove si racconta la storia di Israele come la storia di una bambina abbandonata che si rotola ancora nel suo sangue appena nata di cui nessuno si prende cura e invece passa quest'uomo che è l'immagine di Dio si prende cura di lei la lava la copre e poi ripassa quando è nel fiore della bellezza giovanile e la lega a sé ma poi questa invaghita della sua bellezza che cosa fa va dietro a degli amanti si dimentica di chi l'ha mantenuta in vita e Dio che è lo sposo cercherà in tutti i modi di andare a recuperarla e il recupero in che cosa consiste nel farla ritornare mediante la conversione e la conversione in che cosa consiste nell'abbandonare quei falsi supporti che sono gli idoli per vivere secondo la volontà di Dio e il compito del profeta quale sarà quello di svelare le illusioni del popolo invitare a conversione anche con parole che sono ai nostri orecchi notevolmente rudi c'è un qualche passaggio del profeta Amos Amos faceva il vaccaro e quindi non bisogna meravigliarsi sentire sulle sue labbra espressioni del tipo vacche di basan rivolte queste parole alle signore che si distendono sui divani di Samaria a banchettare dimenticandosi dei poveri creando ingiustizia vacche di basan provate a immaginare se il vostro abate domenica prossima in chiesa usasse una espressione di questo genere sicuramente riceverebbe una denuncia il profeta Amos non teme di usare espressioni di questo genere perché perché vuole scuotere la coscienza di queste persone la sua parola è una parola che colpisce e vuole risvegliare la consapevolezza dell'ingiustizia che si sta compiendo parola critica che vuole invitare a conversione ma anche parola che vuole suscitare fiducia se noi andassimo a leggere un qualche brano del profeta Sofonia o anche del profeta Isaia noi non faremmo fatica a trovare parole che annunciano un intervento di Dio finalizzato a suscitare speranza nel libro del profeta Sofonia il profeta in nome di Dio si rivolge alla feccia di Gerusalemme cioè ai poveracci quelli che mai sarebbero riusciti a fare una rivoluzione e dicono rallegrati figlia di Sion il Signore in mezzo a te è un salvatore potente notiamo bene persone totalmente sfiduciate non hanno più neppure la forza di reagire all'oppressore rallegrati tra parentesi è interessante vedere che l'Evangelista Luca nel racconto della annunciazione riprende questo oracolo del profeta Sofonia Rallegrati tu che sei oggetto del favore divino il Signore è con te oppure nel profeta Isaia c'è una situazione di paura e paura perché cosa dell'invasione i popoli allora si combattevano e quando a un re veniva lo schiribizzo di andare a conquistarsi un altro territorio non ci metteva più di tanto organizzava un esercito e andava ad occupare quel territorio ebbene siamo nel tempo del profeta Acaz il tempo del profeta Isaia e c'è un'alleanza contro Acaz e Acaz ha paura ovviamente perché non ha le forze di resistere e il profeta Isaia si rivolge ad Acaz e gli dice se non crederete non resterete in piedi e poi dice al re Acaz domanda un segno al Signore tuo Dio e Acaz dice no io non oso chiedere nessun segno e Isaia replica ecco il Signore stesso vi darà un segno figlio giovane sposa di Acaz darà alla luce un figlio e lo si chiamerà Emanuele è l'annuncio della nascita di Ezechia che cosa vuol dire di fronte a un re che teme di essere cancellato dalla faccia della terra il profeta dice no guardate che la promessa di Dio di dare continuità alla dinastia davidica non verrà meno la moglie la giovane moglie di Acaz genererà un figlio e questo che cosa vuol dire che non si interrompe la discendenza e quindi c'è una rinascita che poi verrà descritta nel capitolo 9 e nel capitolo 11 quando annunciando la nascita del piccolo si dice che lo si chiamerà con nomi altisonanti principe della pace e poi si arriverà perfino a configurare un futuro nel quale ci sarà riconciliazione all'interno della stessa natura l'orsa pascolerà insieme con la mucca il bambino metterà la mano nella buca dell'aspide della vipere tranquillamente che è quanto dire il profeta è capace di far intravedere che Dio agisce al di là di quello che si potrebbe immediatamente constatare ma come fa il profeta a dire queste cose è un illusionista no il profeta porta dentro di sé la parola di Dio e è una parola finalizzata a dare vita perché questo è l'obiettivo di Dio nei confronti del popolo sia che rimproveri sia che annunci una trasformazione in senso positivo la preoccupazione di Dio è sempre quella di far vivere le persone ma il profeta può svolgere questa funzione perché ha interiorizzato la parola che deve dire nel libro di Ezechiele nel capitolo secondo c'è una bellissima immagine al profeta Ezechiele viene fatto vedere un libro e gli si dice di mangiarlo e il profeta lo mangia e dice che quello che sente dentro di sé è di una dolcezza inenarrabile è la parola che viene assimilata e assimilare la parola è quello che poi permette al profeta stesso di comunicare quello che è diventato vita della sua vita per poter fare questo però il profeta non deve lasciarsi catturare da nessuno appartiene soltanto a Dio in questo senso si può dire che il profeta è una persona libera è una persona che non va a cercare il consenso notiamo bene che la ricerca del consenso è un elemento fondamentale per poter vivere il profeta non cerca il consenso piuttosto è colui che è capace di portare anche una solitudine drammatica ma per quale ragione perché la sua vita e la sua parola sono diverse da quello che l'ambiente nel quale egli vive pensa e vive a questo riguardo bisognerebbe andare a rileggere qualche passaggio del profeta Geremia capitolo 15 il capitolo 20 per esempio nel capitolo 15 Geremia deluso per la situazione nella quale si trova che è una situazione di opposizione continua radicale vogliono ucciderlo Geremia viene posto anche dentro un pozzo e l'hanno messo lì per farlo morire se il re non intervenisse a farlo uscire morirebbe di fame e di sete in un pozzo secco dove c'è soltanto fango e il profeta Geremia a un certo punto considerando la sua esistenza dice ma è perfino maledetto il giorno in cui io sono nato sarebbe stato meglio per me non nascere perché perché sento attorno a me soltanto rifiuto ma notiamo bene tornando a quello che dicevo prima non è il rifiuto nei confronti del profeta direttamente ma di colui che il profeta rappresenta ma come fa poi il profeta a uscire da questa percezione della sua esistenza ricordandosi di quello che Dio gli ha chiesto di fare nel capitolo 20 Geremia dice io avrei voluto smettere di fare quello che Dio mi chiedeva però sentivo dentro di me come un fuoco che mi impediva di ritrarmi da questa funzione è un'esistenza che si potrebbe dire è infelice considerata dal versante ipotetico del successo ma chi è che lo sorregge precisamente Dio stesso già nella vocazione di Geremia nel capitolo primo dove Geremia presenta la sua inadeguatezza quando Dio gli propone di fare il profeta io ti renderò come un muro di bronzo cercheranno in tutti i modi di farti fuori ma non ci riusciranno perché io sarò con te per salvarti ma è ovvio perché il profeta deve rappresentare Dio e Dio non permette anche se poi la sorte di molti profeti sarà quella di essere uccisi Gesù lo ricorda ai suoi contemporanei Gerusalemme Gerusalemme che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono stati mandati e Gesù quando vengono a riferirgli siamo nel capitolo 13 del Vangelo di Luca che Erode vorrebbe vederlo e lui dice dite a quella volpe notate la libertà dite a quella volpe che io devo operare oggi domani e il terzo giorno perché un profeta non può morire fuori di Gerusalemme e nell'incontro che lui ha con i concittadini di Nazareth la prima volta che si presenta nella loro sinagoga a un certo punto viene rifiutato e lui che cosa dice nessuno è profeta nella sua patria la sorte dei profeti è precisamente quella di vivere in una situazione di conflitto perché perché portano una parola diversa rispetto a quella che circola abitualmente nelle considerazioni delle persone e è una parola che tocca anche le situazioni politiche è il profeta che ha il coraggio di denunciare lo strapotere di Davide quando Davide è invaguito di quella bella donna fa uccidere il marito e il profeta Nathan si presenta e gli racconta la storiellina della pecora che un poveraccio aveva e che aveva così cara da tenerla in casa e arriva un ospite nella casa del potente e va a prendere quella pecora e Davide dice ma questa è un'ingiustizia chi è stato e il profeta Nathan gli dice sei stato tu il coraggio del profeta anche di fronte al potere lo strapotere del re ma ancora il profeta è colui che in molte situazioni indica quale sia il comportamento da assumere Geremia per esempio dice non bisogna andare in Egitto avete paura dell'invasore ma se voi andate in Egitto vi perderete dopo certo prendono su anche lui e lo portano in Egitto oppure nella sua lettera agli esiliati a Babilonia scrive non illudetevi il vostro esilio durerà a lungo quindi cercate di fare quello che serve al benessere del popolo che vi sta attorno sono indicazioni di carattere politico e cioè il profeta non è fuori dal mondo non è fuori dalla storia del suo popolo ha il coraggio di indicare quali siano i comportamenti anche dentro le situazioni intricate delle relazioni all'interno del popolo e all'esterno del popolo quello che al profeta interessa in forma particolare è quello di far vivere far vivere senza illusioni la sua azione e la sua parola sono finalizzate a rappresentare l'intenzione di Dio e l'intenzione di Dio è sempre quella di creare le condizioni affinché il popolo possa avvicinandosi a lui sentire sentire che ha forza vitale ma a quali condizioni può svolgere questa funzione le condizioni sono cinque la prima è quella più importante è la relazione viva con Dio è una relazione che aiuta a scoprire che cosa si debba fare in ogni circostanza quando si tratti di dare vita anche quando rimprovera perché il rimprovero distoglie dall'illusione di trovare vita altrove ma soprattutto lo accennavo già prima quando si tratta di far rinascere speranza nella situazione di delusione che notiamo bene ha delle ragioni molto concrete c'è tutto un filone della riflessione dell'antico testamento secondo la quale si è andati in esilio non semplicemente perché qualche re ha deciso di andare a invadere il territorio di Israele ma perché ci si è allontanati da Dio e quando il popolo si accorge che la sua situazione di esilio è determinata dal peccato Dio che cosa fa attraverso il profeta dice io non mi sono dimenticato di voi io vi darò un cuore nuovo metterò dentro di voi uno spirito nuovo vi toglierò il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne e voi imparerete a vivere secondo la mia legge l'esilio diventa luogo di educazione si scopre la ragione di quella situazione che sta nel peccato ma Dio vuole restaurare il suo popolo e quindi il profeta diventa annunciatore di speranza e qui bisognerebbe andare a rileggere i capitoli dal 40 al 55 del profeta Isaia che termina questo questo secondo Isaia che è un altro profeta rispetto all'Isaia storico non si sa chi sia perché viene dopo qualche decennio termina questa parte del profeta Isaia con l'espressione i miei pensieri non sono i vostri pensieri le mie vie non sono le vostre vie come la pioggia e la neve non cadono dal cielo senza aver ottenuto il risultato senza aver irrorato la terra così la mia parola non tornerà a me senza aver realizzato ciò per cui l'ho mandata è come la conclusione di un itinerario di annuncio di trasformazione che nella terza parte di Isaia diventa addirittura di valore universale alzati rivestiti di luce perché viene la tua luce interessante sono parole del profeta rivolte a una città che non riesce a ricostruirsi alzati rivestiti di luce tutti i popoli verranno e ti porteranno i loro doni è la visione che leggiamo normalmente il giorno dell'epifania la relazione con Dio permette di avere degli occhi diversi sulla realtà non gli occhi di tutti ma gli occhi di Dio al secondo posto sta la disponibilità la seconda condizione è la disponibilità a svolgere il compito anche quando crea conflitto e certo è una situazione dura ma chi me lo fa fare nel profeta Amos c'è un episodio notevolmente interessante quel profeta che dice vacche di Basan lui è dello stato del sud cioè è della giudea e va ad annunciare la parola di Dio a Samaria gli dicono cosa fai qui torna nella tua terra quindi non è che sia ascoltato e lui che cosa risponde io stavo bene andando dietro alle mucche ma Dio mi ha chiamato e allora io non posso tacere può forse il leone non ruggire è chiaramente una domanda retorica io non posso non parlare anche se voi mi dite che dovrei tornare nel mio posto una vita conflittuale ma dove il conflitto non nasce da comportamenti che vorrebbero imporre la persona del profeta da comportamenti piuttosto che vengono da quello che Dio vuole conflitto che nasce dalla passione per la volontà di Dio terza condizione è lo sguardo libero e acuto sulla situazione uno sguardo che nasce dalla purificazione che viene da Dio stesso gli occhi del profeta lo dicevo già prima non vedono quello che vedono tutti è l'occhio penetrante questa espressione è interessante si trova sulla bocca di Balaam nel libro dei numeri visione dell'uomo dall'occhio penetrante che vede lontano non è né miope né presbite è un uomo che ha una visione grande dello svolgimento della storia quarta condizione è la parola libera cioè la parola che viene non dalla ricerca del proprio interesse semplicemente da quello che Dio vuol dire al popolo dicevo prima non cerca il consenso il profeta cerca soltanto quello che Dio vuole per il popolo l'ultimo l'ultima condizione è l'elasticità di fronte alle situazioni non si irrigidisce il profeta potremmo dire si lascia determinare dalle situazioni nelle quali il popolo vive per intenderci se il popolo è caduto in situazioni depressive di fragilità non dice oh ve l'avevo detto io quindi adesso arrangiatevi dice piuttosto va bene siete in quella situazione a causa del vostro peccato ma ma Dio è in grado di farvi risollevare ma il profeta è soltanto quello che leggiamo nella Bibbia? no nel Nuovo Testamento Gesù viene detto profeta profeta potente in parole e in opere nell'episodio dei discepoli di Emmaus quando i due se ne vanno via delusi c'è questo pellegrino che si accompagna a loro e domanda ma perché siete così tristi o tu solo sei così forestiero non sai quello che è successo a Gesù Nazareno che cosa fu profeta potente in parole ed opere e però l'hanno ucciso sono passati tre giorni e non è successo niente Cristo ha dato origine a quale termine a cristiano questo vuol dire che i discepoli di Gesù portano dentro di sé una caratteristica di Cristo se Cristo è profeta i cristiani partecipano del compito profetico e in che modo dicendo parole e assumendo stili di esistenza diversi rispetto a quelli dell'ambiente nel quale si vive i cristiani sono dei rompiscatole non perché hanno il gusto di rompere ma perché hanno qualche cosa di originale da proporre e sono capaci di dire e di fare qualcosa di originale anche quando esperimentano in comprensione e rifiuto i cristiani sono inattuali cioè non sono alla pace non sono alla moda hanno un modo di vivere e di parlare che apprendono dalla parola dell'Evangelo dal profeta che è Gesù e potremmo domandarci ma oggi possiamo dire che noi siamo profeti non rischiamo forse di appiattirci sul modo più diffuso di pensare e di agire e se troviamo qualcuno che ha delle parole critiche non pettegole critiche nei confronti dei comportamenti soliti noi diciamo magari che sono dei fanatici parole critiche che vengono però da che cosa dalla assimilazione dal mangiare la parola di Dio e oggi c'è bisogno di cristiani così perché tutti ci lamentiamo del mondo che non va secondo come dovrebbe andare ma poi quando si tratta di metterci la faccia allora ci ritiriamo abbiamo paura abbiamo vergogna ma questo che cosa fa non fa nient'altro che avallare è quello che poi di fatto critichiamo lamentandoci noi ci lamentiamo di questo mondo ma siamo capaci di dire una parola diversa non superficiale diversa siamo capaci di assumere comportamenti diversi rispetto a quelli della maggioranza delle persone o in nome del consenso diciamo semplicemente le parole che tutti usano assumiamo i comportamenti che tutti assumono è chiaro che non è facile ma non è mai stata facile la vita del profeta ma d'altra parte se non ci fossero i profeti vorrebbe dire che non c'è più una voce critica nei confronti della realtà e oggi cosa vorrebbe dire per noi essere profeti a me pare che in un clima di delusione che connota l'ambiente nel quale noi viviamo la cultura nella quale noi viviamo essere profeti oggi vuol dire instillare fiducia e speranza potremmo apparire inattuali ma in questo modo diventeremmo creatori di nuova attualità grazie grazie applausi allora innanzitutto grazie e abitualmente si va avanti ancora un pezzettino attraverso la possibilità di fare domande o obiezioni per il fatto che dobbiamo sfruttare fino alla fine il nostro professor Canobio perché non ce l'abbiamo qui tutte le sere. Ecco allora, profezia inattuale, attuale. E avete notato che si gioca su questo concetto, dove inattuale vuol dire che non va bene oggi, ma vuol dire che non è conforme alla mentalità del momento presente, perché è sempre originale rispetto a quello, no? E questo è interessante. Ecco, avete qualche domanda o obiezioni? Oggi il professor Baronio ha sentito l'esigenza di cominciare lui, e ho questa sera da cominciare io, intanto che ci pensate. No, ho imparato, hai capito, perché chi organizza poi deve anche fare. Allora, soprattutto io noto un problema oggi da questo punto di vista, per il fatto che ci sono alcune, soprattutto alcune persone, chiedo su qualche volta appartenenti al sesso femminile, e non dico sempre, né qualche volta, che dicono il Signore mi ha parlato, il Signore mi ha parlato, mi ha detto. E cioè che si sentono oggetto della parola di Dio, e quindi proprio per questo pensano di avere un mandato particolare per essere profeti, parlare al posto di Dio. D'altra parte, la storia ci dice che ci sono stati dei veri profetici, dei veri profeti, anche nel tempo contemporaneo, all'epoca contemporanea, che però non abbiamo riconosciuto, e che adesso cerchiamo magari di recuperare. Quindi, qualcuno dice di essere profeta, ma in realtà non lo è, e qualcuno non è riconosciuto come profeta, e invece lo è. Allora, per certi versi io mi chiedo, come si fa a sapere che cosa Dio ha da dire a noi oggi? Cioè, come riconosce quindi, come conseguenza, se effettivamente uno è stato oggetto di questa parola di Dio, o meno, oggi? Ecco, adesso però tocca a voi. Io vorrei fare una domanda semplice. Mi ha colpito in modo particolare ancora all'inizio, quando lei ha sottolineato il profeta Isaia, che è stato toccato dal braccio. E io dico, i profeti però, Dio ha dato subito una forza irrompente per dire di sì. Di sì, perché ho sentito dopo varie volte che tutti i profeti avevano occhi diversi di vedere le cose. Noi rimaniamo abbagliati e ci fermiamo. Loro controcorrente, non avevano paura. E mi ha colpito, ecco, la fisionomia dei profeti, questa profezia che noi dovremmo avere proprio il coraggio di mettersi in prima persona e mettersi in gioco. Allora, comincia intanto. Allora, come riconoscere i profeti? Se riprendiamo le cinque condizioni che ho ricordato prima, mi pare che la risposta ci sia già. È chiaro che nelle situazioni intricate non è facile. Bisogna mettere in atto un processo di discernimento. E il discernimento comporta anche la capacità di lasciarsi mettere in discussione. Prendo un riferimento banalissimo. Quando noi discutiamo tra di noi che cosa succede abitualmente? che non ascoltiamo quello che sta dicendo l'altro al punto che lo interrompiamo. E perché lo interrompiamo? Perché l'obiettivo che noi abbiamo è quello di avere ragione. In questo modo risulta estremamente difficile apprendere qualche cosa di nuovo. Il discernimento comporta anzitutto ascoltare. E quando si tratta di ascoltare la parola di Dio bisogna avere la tranquillità, la calma per poterla lasciare entrare. A me piacerebbe qualche volta mettermi fuori dalla porta della Chiesa al termine di una messa e domandare a quelli che hanno partecipato cosa diceva la prima lettura della messa di oggi? E il Vangelo forse quello si ricorda un po' di più perché è più ripetitivo. Che cosa diceva? Questo che cosa denota? Che non mangiamo quel libro. Cioè non diventa alimento della nostra vita. e è chiaro che quello che entra dentro di noi è il modo comune di pensare che ci viene trasmesso più dalla pubblicità che non dalle riflessioni ponderate e pacate. Allora per riconoscere i profeti oggi occorre avere la consapevolezza della situazione nella quale noi viviamo e di quello che Dio dice. Ma da soli è un po' difficile che riusciamo a farlo. Bisognerebbe mettere in atto pratiche di discernimento comunitario. Cioè trovarsi insieme leggere insieme la parola di Dio ma confrontandola con la situazione nella quale ci troviamo. è chiaro che questo costa qualche cosa di più che la telenovela o che la partita che possiamo guardare alla tv o il programma bello che poi è bello semplicemente perché ci distende o per carità bisogna trovare anche la distensione anche il vostro abate trova i momenti di distensione e fa bene ma se ai momenti di distensione non si alternano momenti nei quali si assumono elementi critici in rapporto agli stili di esistenza noi siamo come appiattiti e allora facciamo fatica anche a riconoscere chi oggi dice una parola diversa ma secondo voi perché nei confronti di papa francesco c'è questa serpeggiante opposizione perché ci dice delle cose che ci scomodano dice delle cose che mettono in discussione i nostri modi più immediati di pensare e di agire e allora diciamo che è comunista che è eretico ma semplicemente lui dice io non faccio nient'altro che proporre nella situazione di oggi il Vangelo e ci mette in discussione noi siamo maggiormente disposti ad ascoltare un populista che non papa francesco nella Bibbia ci sono dei casi nei quali c'erano profeti che davano ragione al re e gli creavano illusioni e poi il re si trovava col sedere per terra perché si accorgeva che gli avevano contato storie ma la ricerca è sempre quella di trovare qualcuno che ti dà ragione e se trovi qualcuno che ti dà ragione tu non cresci neppure di un millimetro chi ci fa crescere e chi ci fa vedere qualche cosa di diverso rispetto a quello che abbiamo già pensato ma è chiaro che questo scomoda certo ai profeti Dio ha dato una forza del tutto particolare ma ma non è stata facile neanche per i profeti e quando prima facevo riferimento a Geremia anche per lui è stato duro accettare quello che Dio gli chiedeva perché anche lui era una persona umana e andava a cercare quello che non gli creava troppo conflitto e però Dio non gli permetteva perché lui ascoltava quello che Dio gli diceva fare i ritrosi fare i ritrosi perché qualcosa ci scomoda non ci permette di essere profeti ma guardate nelle situazioni più concrete dell'esistenza faccio degli esempi banalissimi te che fa be a fare che cosa a non perdonarlo te che fa be a dico stupido e invece no non hai fatto bene a non perdonare non hai fatto bene a dirgli stupido questo è il modo concreto di essere profeti di dire una parola diversa che è la parola del Vangelo non occorre andare a a predicare come faceva Amos e a dire vacche di Basan nelle situazioni concretissime della vita è arrivata qualche domanda qualche ulteriore domanda diciamo che noi abbiamo ancora l'immagine del profeta come un carismatico che ha ricevuto qualcosa dall'alto e parte da una situazione privilegiata ritengo che ci sia qualcosa da aggiungere a questo aspetto e lo vedrei in un cammino di conversione personale che uno deve perseguire perché se non c'è questo aspetto diciamo di volontà di arrivare ad una certa meta e a capire dove la storia ci ha messo e cosa possiamo ancora dire sulla base di principi e valori che vogliamo portare avanti credo che sia difficile che si riesca ad immaginare uno che profetizza mi parebbe quindi che il cammino sia duplice è un cammino di approfondimento e di confronto collettivo nella comunità sostanzialmente per confrontarsi e soprattutto per confrontarsi negli aspetti più difficili più critici più onerosi per ciascuna persona per migliorare la propria capacità di essere presenti e di avere la possibilità o la volontà o la capacità di ascoltarci e dall'altra parte quello di vedere l'ambiente in cui siamo collocati e fare un confronto continuo tra quello che noi riusciamo a vedere e percepire alla luce di quello che ci siamo detti e agli risultati a cui siamo arrivati rispetto alla situazione proprio oggi in cui pare che tutto sia perduto c'è una situazione anche politica in cui c'è una degenerazione che sembra quella vincente anche se dentro di noi sappiamo che alla fine questa non può durare a lungo ci sono situazioni concrete per le quali tutto quello che adesso è annunciato proposto e roba di questo genere non ha un futuro ma lo si accetta quasi passivamente perché non si ha coscienza del fatto che qualcuno oppure non si riesce a individuare qualcuno che profetizzi qualcosa che guardi un po' più avanti per cui c'è un po' questa necessità di recuperare il senso della comunità per costruire i profeti non tanto per indottrinarli ma quanto per abituarci a un metodo a un criterio e a esplicitare quello che abbiamo ancora dentro e credo che abbiamo ancora molto da dare e riportarlo anche a livello sociale politico amministrativo ma anche di vita di tutti i giorni nella comunità io credo che dobbiamo ritornare un po' al titolo della prima lezione che secondo me senza neanche averci pensato tanto e invece è stato giusto collocare con quel titolo all'inizio del nostro percorso la parola in un mondo di parole sull'abisso di babele i profeti parlano io noto e la crisi della profezia contemporanea secondo me si accompagna con la crisi della parola c'è un effluvio di parole e la parola non incide più questa usura della parola probabilmente ci impedisce di cogliere invece là dove effettivamente la parola con la P maiuscola parla non so se è condivisibile una valutazione di questo tipo ma mi pare proprio che la storia ce lo insegna sono stati momenti di straordinaria crisi in quei momenti di straordinaria crisi penso alla figura di San Benedetto no si è ritirato nell'eremo è lì nell'eremo dove non ascoltava nessuno perché gli arrivava direttamente alla parola e forse la preghiera è il modo migliore per ascoltare la parola no e però bisogna riuscire ad avere una forza la capacità di ritrovare no questo spazio e riguadagnare la possibilità di poter poi comunicare con una parola efficace che può anche essere non una parola può essere anche un progetto può essere l'esempio San Benedetto ora allora equiparare il lavoro alla preghiera era uno scandalo proprio scandalizzare in quel modo è stato profeta voglio dire non so se l'esempio può essere calzante grazie buonasera si no collegandomi all'ultimo intervento al di là della parola forse la cosa vincente di un profeta è l'essere credibile quindi unire la parola alla vita vera al modo di vivere e quindi nel mare delle parole che tutti i giorni sentiamo forse è una considerazione che mi è venuta sentendo l'ultimo intervento la parola riesce ad essere efficace quando è accompagnata da una coerenza una credibilità cioè io sono vero e quindi sono credibile nel momento in cui la mia parola viene espressa perché chi ascolta vede che vede in me la testimonianza vera e viva che deriva comunque da prendere la forza da Dio ecco ascoltiamo l'ultima domanda più una considerazione che una domanda se col battesimo siamo diventati sacerdoti re e profetti io personalmente ho incontrato profetti direi nella mia vita un sacerdote anche un vicino di casa che in un momento perciò non sono così pessimista vorrei anche parlare un po' di speranza perché proprio nel quotidiano non mi sento molto lontano dai profetti citati stasera e penso proprio che formandoci siamo profetti ci credo che col battesimo sono diventata profeta tutto sta poi a manifestarlo però i genitori un nonno certo anche in quella che adesso è anche non è molto di moda la correzione fraterna in quello che mi corregge io posso vedere un profeta non so se sono uscita dal seminato o se sono eretica e come mai si parla così poco di profetesse e quello che diceva la signora è perfettamente vero e lo collegherei con quello che diceva Sergio in apertura di questo secondo ciclo di domande nel libro degli atti degli apostoli nel capitolo 2 subito dopo l'evento di Pentecoste la folla che è venuta ad ascoltare dice ma questi qui si sono ubriacati di mosto e Pietro dice prendendo la parola dice sono appena le nove del mattino non sapeva ancora che di notte ormai si vive da parte di molti e quindi si torna a casa alle otto del mattino sono appena le nove del mattino ma si è realizzato quello che il profeta Gioele dice e cita il capitolo 3 del profeta Gioele negli ultimi giorni diventeranno profeti i vostri figli e le vostre figlie per fare riferimento anche alle donne i vostri schiavi e le vostre schiave quindi tutti si diventa profeti e giustamente lei diceva nel battesimo quando nel rito del battesimo si fa l'unzione con il crisma si fa riferimento alle connotazioni fondamentali di Gesù Cristo che è anche profeta ma dentro il tessuto della vita quotidiana e giustamente lei diceva anche nelle cose piccole prima facevo l'esempio del dico stupit perduna educare alla vita cristiana o anche solo alla vita civile uscendo dai luoghi comuni questo è un modo di essere profeta e giustamente diceva Sergio questo che cosa comporta la capacità di confrontarci anche tra di noi noi cristiani rischiamo di diventare insignificanti per paura e per comodità a me piacerebbe qualche volta visto che Sergio faceva riferimento alle situazioni politiche leggere un passaggio del profeta Isaia siamo nel capitolo primo udite la parola del Signore voi capi di Sodoma Sodoma è la città che secondo il racconto della Bibbia è stata distrutta per la peccaminosità ascoltate la dottrina del nostro Dio popolo di Gomorra notate bene il profeta non ha paura a paragonare i destinatari della sua parola con le città che sono state distrutte per il peccato che mi importa dei vostri sacrifici senza numero dice il Signore sono sazio degli olocausti di Montoni e del grasso di Giovenchi il sangue di Tori e di Agnelli e di Capri io non lo gradisco quando venite a presentarvi a me chi richiede da voi che veniate a calpestare i miei altri smettete di presentare offerte inutili l'incenso è un abominio per me nuovi luni sabati assemblee sacre non posso sopportare delitto e solennità e poi procede le vostre mani grondano sangue le vostre mani grondano sangue e capite benissimo a che cosa mi riferisco cessate di fare il male imparate a fare il bene ricercate la giustizia soccorrete l'oppresso rendete giustizia all'orfano difendete la causa della vedova e queste parole andrebbero lette anche in rapporto ad alcune opinioni che si ritengono quelle più cristiane è chiaro che noi a volte siamo indotti a pensare non in maniera critica ma in maniera più superficiale quello che a mio parere pur riconoscendo quello che diceva la signora che nella vita quotidiana c'è questa dimensione della profezia ma a livello macro noi rischiamo di farci condurre a mentalità che in nome della difesa dei principi cristiani agisce in maniera anticristiana e fa pensare in maniera anticristiana notate bene in nome della difesa dei valori cristiani la parola da dire giustamente diceva il giovanotto deve essere una parola credibile e quindi una parola che rispecchia lo stile di esistenza come avveniva per i profeti ma per dire una parola così occorre anche non moltiplicare le vane parole prima il professore faceva riferimento a San Benedetto che si è ritirato nell'eremo e chi di noi è capace ancora di tenere il silenzio ma non il silenzio della solitudine angosciante il silenzio meditativo quando si fanno i ritiri provate voi a domandare alle persone di stare un'ora in silenzio col testo della parola di Dio sotto gli occhi è la cosa più difficile che si possa chiedere alle persone l'usura della parola ma più che della parola è l'usura del cicaleccio che impedisce alle persone di raccogliersi in se stesse e è chiaro che poi si è preda di parole che ci invadono il profeta è anche l'uomo che è capace di ritirarsi nel libro dei re c'è l'episodio di Elia che scappa via perché ne ha fatto una grossa veramente e va sul monte l'oreb e là incontra Dio nella brezza leggera e il ritornare al silenzio meditativo ripeto non quello della solitudine angosciante è la condizione per poter ascoltare una parola diversa ma non sappiamo ascoltarci neanche tra di noi dicevo prima quando discutiamo noi immediatamente cerchiamo di obiettare senza aver ascoltato quello che l'altro dice ma non voglio lasciarvi nella situazione pessimista bisogna avere fiducia nella possibilità che il Signore ci mette dentro di essere oggi persone che hanno una parola diversa da dire per dirla occorre ascoltarla allora rinnoviamo il nostro grazie a Don Giacomo Canobbio e vi do l'appuntamento per il prossimo per il prossimo incontro che sarà lunedì 2 dicembre lunedì 2 dicembre e incominciamo a affrontare proprio la lettura l'analisi la meditazione di un libro del profeta e cioè il profeta Isaia sarà presente Pier Maria Feltri storico dell'ebraismo buonanotte a tutti di un